La banana non è stata mai così dolce E infatti Ciao a tutti e benvenuti qui dove le banane sono sempre buone Bravo, mi è arrivata la banana di bocca E quindi, cosa ci presenti oggi Ombretta? Io me ne vado, ciao No dai, una ricetta facile e veloce Allora, buongiorno, benvenuti nella nostra cucina virtuale E non più virtuosa, di questo siamo sicuramente certi Ma forse anche un po' maliziosa E allora, non ci interessa, io non colgo E soprattutto banane Brava Bene, questo Sto scendendo anch'io Questo è uno spuntino, merenda rivolta alle scimmie? No, innanzitutto diciamo, diamo i giusti feedback Che diciamo semplicemente che è una ricetta che io ho estrapolato da Facebook In uno di quei fast video che passano così sulle home page Ma che ci trovate in questi fast video? Non trovate la simpatia? Non trovate veramente la professionalità No, 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 a me piacciono Ma cosa trovate? Fate 30 secondi di video e poi non li farete mai A me piacciono A me piacciono perché mi danno lo spunto Però sinceramente, siccome li vedo nei punti più disparati del mondo Tipo questo l'ho visto in macchina mentre lui mi accompagnava al lavoro Non ho il tempo di prendere e segnarmi la ricetta E poi i post passano così velocemente Che non li trovo più E allora mi rimane in mente solamente ciò che ho visto Il visivo e non più le quantità Le cose che c'è Oggi voglio fare una bella coroncina banana e nutella Per una merenda veramente golosa Buono, era buono vero? Era buonissimo Era buonissimo E l'ho voluto rifare Perché secondo me molte di queste fast recive Come si dice Sono farlocchi Nel senso che fanno vedere cose così Passi questo, passi questo E poi gli escono meraviglie Secondo me Mi hanno sempre un po' puzzato di fregatura E allora ho detto Vediamo se questa riesce Mi sembrava molto semplice Vediamo che sapore ha Ragazzi, mi devo ricredere Chiedo scusa per la malafede E' uscita una cosa fenomenale Un dolce di una bontà divina 5 secondi per prepararlo 5 secondi per spazzolarlo Nel senso che era troppo buono Basta, quindi basta rimanere sulle spine O sulle banane E andiamola a fare E andiamola a fare Una pigra domenica pomeriggio Da occupare tra i fornelli E allora vi propongo una ricetta facile facile Che ho visto su Pinterest Mi pare sì O su un video spidi di Facebook Non ricordo Però l'ho visto online E vi ripropongo Con quello che ci ho capito Da un video super veloce Ve lo faccio più dettagliato In modo che chi l'ha visto come me Anpassan Possa avere tutti i passaggi Molto più facilitati Cosa occorre per questa ciambella sfogliata Alla nutella e banana Semplicemente Un goccio di latte In cui stemperare Un uovo intero Della nutella Circa 4 cucchiai Due banane Belle mature E della pasta sfoglia Rettangolare Che io qui Ho Bella e pronta Che ho comprato alla Lidl E vi consiglio questa della Lidl Perché a pochissimo prezzo Corrisponde Un'altissima qualità Di contenuto Cominciamo subito Come prima cosa Mettiamo Poniamo in orizzontale La nostra sfoglia Con un coltello Dividiamo idealmente La sfoglia In tre parti E poi Con un coltello Tagliamo A striscioline Così La parte finale A mo' di frangia Questo è un dolcino Facile facile da fare E di grande effetto Voilà Quindi Prendiamo La nostra nutella Prendiamo Un cucchiaio E stendiamo La nutella Nella lunghezza Della pasta Facciamo un lettino Di nutella Sbucciamo La nostra banana E tagliamola a pezzi In maniera Da adagiarla E darne Ti sei svegliato? E' arrivato qualcuno Hai sentito l'odore? Non parli? Sei simpaticone Non parli? E' domenica pomeriggio E ci vuole un riposino Certo amore Ci vuole sempre un riposino Chi può e non fa Campa scontento Allora Continuiamo a farcire Con un andamento Così più verticale La nostra bananina Adesso Rabocco Da una parte E dall'altra Questo nel video Non c'era Ma Se non lo si fa Secondo me Accade tutto all'interno Quale video? Quello che ho visto Su Facebook Di questa ricetta E Arrotolo Beh Cosa deve venire fuori? Una specie di tappeto? Voilà E poi? Poi Facciamo così Ho capito Se hai visto Poi facciamo così Uniamo Con un po' d'acqua O con un pochino Di latte Avete le mani pulite Immagino Le due estremità Prendo il mio Ovetto È una ricetta Speedy Super speedy Super facile E super buona E Ops Velocemente Mescolo I componenti E con un pennellino Spennelliamo Spennelliamo tutta la nostra Golosa Ciambellina Che sembra piccola Ma va mangiata in sei persone Non vi azzardate a mangiarla Ma era questa per sei persone? Sì amore Sei persone cosa? Sei persone Lego? È un dolcino Non deve essere uno strafogo Poi se siete depressi Vabbè Andatevi a fare una passeggiata Non mutatevi su queste cose Tu sei depresso? Dice no Sono Lego Ma è piccolo ma potente Come si suol dire Voilà Spennellato tutto Ben bene Avviate il forno A 200-220 gradi Preparate una piccola Teglietta In cui Io guardate Non tolgo nemmeno La carta forno Su cui Ah brava È poggiato Faccio semplicemente così E lo sposto In teglia In forno A 220 gradi Per 15 minuti E la nostra ciambellina Nutella e banana È pronta Guardate che carina In 15 minuti Per un tè veloce Con le amiche O una merenda sfiziosa Per i ragazzi A casa Ecco la nostra ciambellona E voilà Nel suo Squisito Splendore Guardate come rimane dentro Molto carina Molto carina Siamo pronti Per l'assaggio goloso Che bello Ne vuoi una così? Sì sì Tieni Sentiamo È buonissima È buonissima Io non amo molto L'abbinamento banana e nutella Ma devo dire Che in questo caso Che vuoi? Capiti? Mi fa ridere Tu che non ami Gli abbinamenti Con la nutella Ragazzi Che vi posso dire? Un dolcetto facile facile Ve lo consiglio Ve lo consigliamo? È carina anche La fetta sottile Bene E quindi Io che dico Non lo so Lo devo provare È buonissimo Un sapore delicato La banana Sgrassa totalmente Il sapore grasso Della Della pasta sfoglia E la dolcezza Della nutella È buonissimo Dovresti vedere Gabriele È tutto sporco Di nutella Ragazzi E la dolcezza Della nutella Avvolge il due sapore È delizioso Provatelo Perché è consigliatissimo Le due quale una cappa Tu lo vuoi? No Allora Vi lasciamo alle foto Vi lasciamo alle foto E noi ci vediamo dopo Ciao Ciao E' semplice fare questo dolce Con la banana Chiedete al vostro marito Di comprare la banana Naturalmente E fate questo dolce Che andrà a ruba Andrà a ruba Bene È veramente Un dolce molto buono La particolarità Ve l'ho detta anche prima Il fatto di essere Un dolce ricco Ma nello stesso tempo Fresco Perché la banana Pulisce la bocca Sei viziato qua Il frutto Intrinseco Di questo dolce Sgrassa totalmente Il palato Dalla grossosità Della vasta sfoglia O della nutella Dando quel tocco Di fresco Lui ride Senza capire Perché Ovviamente Lui Dando quel tocco Di fresco È goloso Dolce All'insieme È pericolosissima Dangerous Ah 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 Perché Una fettina Tira l'altra Non aggiungere Battute Perché Si può dire E quindi Provate questo Come lo chiamiamo Corona Corona Banana Nutella E provate quindi Questo abbinamento Banana e Nutella Che è buono Non solo in cucina Giusto? Svettila Basta Scriviamo l'acqua Scusateci Scusateci Veramente Ripeto Vi giuro Kenzo Kenzo Non sta capendo Perché vide Così Lui vide Proprio Quando vuoi fare Il nostro tono Eh no Eh no Eh no Bene Allora Questo video Finisce qui Perché Se no Ombretta Potrebbe andare Oltre Quindi cerchiamo Di fermarla Si divertirà Anche lui Naturalmente Parliamo solamente Di cucina Qua Non Stiamo parlando Di altro Certo Certo I malpensanti Siete voi Cattivi Vi preghiamo Quindi di provare Questo dolce Basta Basta Chiudiamola qua Ragazzi Sta degenerando Noi ci rivediamo Sempre qua Sulle vostre tavole Ciao Ti uccido